Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. Si complica la soluzione della crisi di governo. Matteo Salvini ci ripensa e corteggia il Movimento 5 Stelle per rilanciare l'intesa pur di evitare il ritorno del PD al governo, ma sullo sfondo resta l'ipotesi di elezioni anticipate. Intanto la CGL lancia il grido d'allarme, la crisi pregiudica la soluzione delle tante vertenze aperte e la già traballante programmazione regionale, ha detto il segretario Franco Spina. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Il leader della Lega Matteo Salvini fa retromarcia e corteggia il Movimento 5 Stelle per rilanciare l'accordo pur di evitare il ritorno del PD al governo. Il capitano è disponibile perfino a consegnare la Presidenza del Consiglio dei Ministri a un esponente grillino, mentre lo stesso PD è diviso al suo interno tra favorevoli e contrari all'intesa con i 5 Stelle. Dunque restano in campo le due ipotesi, ovvero governo giallorosso o governo gialloverde, ma anche la possibilità di elezioni subito e così la soluzione della crisi si allontana o quantomeno resta incerta. Intanto la CGL del Molise ha diffuso una dura e articolata nota evidenziando che l'instabilità politica pregiudica anche la soluzione delle crisi produttive e la già traballante programmazione sulle vertenze molisane. In questo momento dove c'è un paese in ginocchio e le regioni in ginocchio di tutto abbiamo bisogno tranne di una crisi al buio. Tra l'altro alla vigilia di un'importante finanziaria bisogna superare il problema dell'aumento dell'IVA e bisogna ovviamente mettere in campo quelle azioni anche di salvaguardia dei diritti, anche quelli costituzionali, oltre che per quanto ci riguarda il discorso dei contratti, il rinnovo dei contratti pubblico in bieco, tutta la partita per quanto riguarda il discorso della progressività della tassazione, il sistema pensionistico, avevamo avviato una discussione anche sul sistema, quello vero, non la semplice quota 100, ma una discussione vera sulla riorganizzazione pensionistica a favore dei pensionati. Ricadute negative anche sulle tante vertenze del Molise ancora aperte? Assolutamente sì, a livello locale c'è un altro problema che è quello di tutte le vertenze e noi gli interlocutori in questo momento non ne abbiamo, eppure noi siamo, eravamo impegnati su più fronti a partire dall'avicolo, ma anche il bieticolo saccarifero avevamo richiesto al Ministero dell'Agricoltura un nuovo tavolo perché c'era un impegno a suo tempo ormai di due o tre anni fa e a quell'impegno c'era un'apertura per riattivarlo quel tavolo, così come chi ci seguirà sul pezzo della ZES, sul contratto istituzionale di sviluppo che noi non abbiamo condiviso per come lo si sta organizzando, ma tra l'altro c'è un altro dettaglio che non è da poco, che questa è una regione ormai commissariata su tutto e con il commissariamento bisogna discutere con Roma, sulla sanità siamo commissariati, sulla ricostruzione non decidiamo noi. Su contratti istituzionali di sviluppo, risorse europee destinate a Molise, gestite dal nazionale attraverso Invitalia e noi non lo siamo tagliati fuori, allora c'è bisogno come il pane di avere interlocutori urgenti, una crisi al buio non porta buone cose. Poi c'era ovviamente la ciliegina sulla torta che mentre si chiede che a livello nazionale ci sia un'unità di intento dei molisani, poi ci si schiera a livello locale con una delle parti in causa, chiedendo sostanzialmente le elezioni anticipate. Le altre cose che sono sicuramente in bilico sono tutte legate all'interlocuzione principale sulla sanità, sulla ricostruzione terremoto, appunto sul contratto istituzionale e su tutte le altre partite che riguardano il patto per i Molise e soprattutto anche quelle che sono le infrastrutture, la famosa delibera del Cipe. Quindi essere contenti che ci sia una crisi e che si vada verso le elezioni, schierarsi per quanto ci riguarda, non ha precedenti in quanto a gravità, per quanto ci riguarda noi abbivogliamo interlocutori perché Molise è una situazione talmente drammatica che necessita di interlocutori seri, credibili ma soprattutto urgenti anche nelle decisioni da prendersi. Siamo in una perenne crisi, il primo problema è l'occupazione e non possiamo permetterci tempi lunghi per la risoluzione della vertenza e soprattutto del problema del governo. Ai disoccupati servono risposte e non perenni campagne elettorali, mentre all'Italia e al Molise non servono improvvisatori e opportunisti, ha concluso Franco Spina. Parato dalla Regione il regolamento che istituisce l'osservatorio regionale sugli habitat naturali e la popolazione faunistica, importantissime le funzioni del nuovo organismo, dalla tutela ambientale alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura da cinghiali e altre specie animali. Sarà finanziato da somme specifiche iscritte in bilancio. Ci dice tutto in questo servizio Pasquale Di Bello. Ce la stanno mettendo tutta pur di governare il fenomeno e arginare la devastazione in corso che gli agricoltori subiscono ormai sistematicamente ad ogni stagione. Il fenomeno inquietante di branchi di cinghiali ed altre specie selvatiche che mandano in fumo il raccolto di lavoro di un anno intero è purtroppo drammaticamente all'ordine del giorno. In tal senso è da accogliere positivamente l'istituzione dell'osservatorio regionale tecnico-scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui in questi giorni è stato varato il regolamento. Si tratta di un nuovo organismo regionale finanziato con apposite risorse che verranno iscritte in bilancio al quale vengono affidate una serie di questioni importantissime, compiti tanto in materia ambientale quanto appunto in ambito faunistico. Stiamo parlando di funzioni di controllo, coordinamento scientifico e tecnico, di indirizzo, divulgazione e formazione. Spetteranno all'osservatorio, tra le altre cose, la definizione degli ambiti territoriali di caccia e l'elaborazione dei criteri della pianificazione faunistica venatoria, la conservazione delle specie legate al recupero ambientale, gli interventi legati al contenimento dei danni causati al patrimonio agricolo e zootecnico dalle specie faunistiche più aggressive, la tutela e la gestione della pesca sportiva, sino agli interventi per il recupero ambientale. Tutta questa attività sarà condotta in stretta collaborazione con le strutture competenti dell'azienda sanitaria regionale. Inoltre è prevista espressamente nel disciplinare approvato lo scorso 9 agosto la collaborazione con l'Università del Molise per quello che concerne l'attività di formazione e divulgazione e per la organizzazione di master e corsi di specializzazione nella gestione faunistica. È tutto per il nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Marco Iannetta in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it Bomba d'acqua a Isernia, danni allagamenti e traffico in tilt. Lutto in casa a Toma è morta la signora Clotilde, la mamma del presidente. Poi Isernia alla volante sventa un furto nella scuola di San Lazzaro, recuperati sette computer. Orsa investita a Rio Nero Sannitico, liberatore, veterinario dell'Asrem, dice un disastro, si rischia l'estinzione. Basso Molise, acqua, singhiozzo per un guasto, disagi per 4 comuni e poi viabilità ai sindaci di 9 comuni del cratere, chiedono un incontro al governatore Toma. Soste blu a Isernia, non bisogna pagarle, le tariffe sono del 2018, lo dicono di Clemente e di Schiavi. Trasferito il detenuto sorpreso a parlare al cellulare, il SAP, il sindacato, dice, situazione drammatica. Isernia, carenza di sangue negli ospedali molisani, appello dell'Avis ai donatori. E poi Agnone aggredisce e minaccia i carabinieri, pregiudicato in manette, denunciata la compagna. Regione al via l'osservatorio sull'habitat naturale e la fauna. Dopo una lunga esperienza all'alberghiero di Termoli, Titti Tribò, nuova preside del Mattei di Vieste. Ci sono poi le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, governo passi avanti nella trattativa 5 Stelle PD, si accorciano le distanze dopo il primo incontro, ostacoli superabili, i DEM cedono al taglio dei parlamentari. Federico dice ai margini, ci sono la Lega, le minestre riscaldate, non mi sono mai piaciute. Grillo rilancia Conte. Il senatore Luciano D'Alfonso a primo piano, dice Abruzzo e Molise, col nuovo esecutivo torneranno al centro dell'agenda. Poi Isernia, bomba d'acqua sulla città, strade allagate, alberi sradicati e tetti scoperchiati. L'incidente aereo nero sannitico, d'orsa liberata, travolta e uccisa sulla statale il parco nazionale, Abruzzo, Lazio e Molise, dice grave perdita per la conservazione della specie. ZES, il presidente dell'autorità portuale a Termoli, vertice con il sindaco Roberti e il comandante della guardia costiera per le zone economiche speciali. Poi l'emergenza, crisi idrica in basso, Molise, turisti e residenti infuriati e nel 2020, cento anni di sordi, la manager di Banfi, eventi pure a Termoli. Poi Montaquila, vetrina del Molise Exist, si alza il sipario sul festival delle arti transumanti, in programma stasera i concerti di Cisco e Alma Megretta. Vediamo adesso il punto di Romano Mignogna, dal titolo Allarmi, Allarmi, Allarmi sono fascisti. Serie D, Lupi, Agostinelli e Lavecchia hanno convinto Mister Cudini, per quanto riguarda invece l'eccellenza, dunque lo sport, Boiano presi Staffelli e Manet, Frascal, Rocca, Isernia, Giordano. Calcio a 5, Primavera crede nel progetto dello Sporting Venafro. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del quotidiano del Molise, crisi di governo, PD 5 Stelle dal Molise, si tifa per l'accordo, passi in avanti verso l'intesa, Fanelli dice non solo possiamo ma ora dobbiamo, Federico e Testamento, mai più con Salvini, queste le loro dichiarazioni. Poi Campobasso per i giudici, fece sesso con un minore insospettabile, Casalinga sconta 4 anni e mezzo in carcere. Basso Molise ancora emergenza idrica, ieri in tarda serata una nuova rottura all'impianto del Liscione. Violento lubifraggio su Isernia, allagamenti e alberi abbattuti, vedete queste foto con danni, paure, incidenti, strade allagate, traffico impazzito, un pomeriggio davvero drammatico, quello vissuto a Isernia per una vera e propria bomba d'acqua. Danni, incidenti e strade invaste dall'acqua, paura per gli arbusti caduti sulle auto. Campobasso, carcere, situazione sempre più a rischio e l'allarme del segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che ieri mattina ha tenuto una conferenza stampa. Poi il rioniero Sannitico auto investe orso e lucide, grave perdita per il Parco Nazionale, Abruzzo, Lazio e Molise. Campobasso, l'istituto Pilla fa scuola anche oltreoceano, incontro in Argentina. Poi Isernia, la polizia sventa un furto e recupera sette computer. Kiss Me Deadly si alza il sipario sulle nuove frontiere del cinema noir. Per quanto riguarda invece le notizie di sport, calcio, lupi, Cudini lavora sull'identità della squadra. Fra otto giorni il debutto, domani testi in famiglia. Agnone e Granata tesserano l'attaccante d'Ercole, presentata la rosa ai tifosi Granata. Eccellenza, il Boiano si rinforza dopo i fratelli Cioffi, arrivano le firme di Staffelli e Manet. Vediamo come titola Futuro Molise. Violenta bomba d'acqua su Isernia, disagi, incidenti, allagamenti in diverse zone della città. Poi atti sessuali continuati con un minorenne, arrestata una donna di 40 anni di Campobasso. Isernia ha sventato un furto in una scuola, la polizia recupera 7 personal computer e una chitarra. Lutto per il governatore Donato Toma, è morta la mamma Clotilde. Crisi di governo, Cigelle, problemi irrisolti anche in Molise. Poi il comune di Tufara aderisce alla campagna nazionale di Lega Ambiente, puliamo il mondo. E ci sono poi le altre notizie sul futuro Molise. Le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con la Repubblica Ultimatum per rompere vertice. In tarda serata tra i leader di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, le due condizioni di Di Maio, Conte bisse subito il taglio dei parlamentari. Zingaretti in imbarazzo respinge il nome del Premier, serve discontinuità. La nuova alleanza è già in un vicolo cieco. i 5 Stelle tengono aperta la porta alla Lega. Salvini, tutto per impedire il governo. Giallo-rosso, poi ci sono gli approfondimenti. Il mondo contro Bolsonaro, da Macron a Greta, fermare il disastro. Praticamente si parla di quanto sta accadendo in Amazzonia. L'Amazzonia brucia l'incendio, Brasile, la foresta pluviale, come vedete in questa foto, infiamme nello stato dell'Amazonas, quindi nel cuore dell'Amazzonia. Dalla Repubblica passiamo adesso a vedere come titola il Corriere della Sera. Anche qui in evidenza la politica nazionale. La crisi si tratta tra veti e accuse. Zingaretti vede Di Maio che rilancia Conte, no del PD, ma si va avanti. Renzi attacca Gentiloni. L'incontro in segreto da Spadafora e poi le divisioni nel Movimento 5 Stelle sale la protesta. Dunque una situazione molto difficile. Gli incendi, Macron e Merkel se ne occupi il G7. Il Brasile manda l'esercito. La situazione drammatica in Amazzonia. Allarme globale. L'Europa. Bolsonaro mente. Ci sono anche qui gli approfondimenti su questa notizia. I capricci della natura, scrive Alessandro Piperno. Dal Corriere della Sera passiamo a Libero. Il ballo dei Quacquaraquà. Sospetti e liti malinciucio. Movimento 5 Stelle. PD c'è. Grillo attacca Renzi che accusa Gentiloni. Di Maio sfotte la sinistra che dice di non fidarsi del Movimento. Zingaretti cambia versione ogni giorno. Poi tutti in coro. Ostacoli superabili. Appello di Salvini ai 5 Stelle. Non potete riportare idem al potere. Paolo Becchi scrive. Lega e Grillini torneranno a governare. Vittorio Feltri. È possibile però. Sarebbe assurdo. Storia che merita di essere ricordata. Così Montanelli si innamorò di uno sciacallo. C'è questo articolo di Azzurra Barbuto. Da Libero passiamo a vedere il fatto quotidiano. Di Maio resiste alle sirene. Conte, Premier o niente. L'incontro. Il leader declina le offerte di PD e Lega per Palazzo Chigi. Vede Zingaretti e con Grillo indica solo il nome del Premier uscente. I commenti. Consiglio di fidate di tutte le preverità. Scrive Antonio Padellaro. Salvatore Settis invece. Conte, la metamorfosi di un Premier per caso. Roberta Lombardi. Movimento 5 Stelle. Tutti i big devono restare fuori dal governo. Incluso Di Maio. Il tempo amatrice. Tre governi scandalosi. Nella notte di tre anni fa il terremoto devastò il centro Italia e nulla è stato ricostruito. Reportage con le immagini della vergogna. Oggi quel che esiste è solo grazie ai privati. C'è l'articolo di Franco Bechis. Di Maio incontra Zingaretti a cena e chiede un conte bis. Avvenire passi programmati. Questo è il titolo in evidenza. Primo incontro costruttivo tra Movimento 5 Stelle e PD. Taglio dei deputati. La condizione nel vertice serale. Di Maio chiede a Zingaretti la riconferma di conte Premier. Veleni tra i dem. Grillo attacca Renzi dalla Lega. Un pressing contro il governo giallo-rosso. Amazzonia rogo infinito. Bolsonaro sotto accusa. Alcuni paesi pensano a un boicottaggio della carne. Il caso G7 Trump è più solo su clima, crisi e dazzi. Al via un incontro complicato che sancirà le divisioni geopolitiche. Scrive Avvenire. Vediamo adesso la verità. Come titola il governo non c'è ma litigano già la vera crisi. E dentro i due partiti che inciuciano. Scrive Maurizio Belpietro. Nel giorno in cui partono le trattative per dar corpo al ribaltone. Renzi attacca Gentiloni accusandolo di voler far saltare l'intesa tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e minaccia la scissione. Fra i democratici volano gli stracci. Zingaretti furioso con il bullo. Continua Maurizio Belpietro. Ridicolo e offensivo. Di Battista alza il prezzo e si scontra con Fico. Grillo rilancia Conte e completa il caos. Poi Giorgio Gandola scrive perché Salvini continua a tenere la porta aperta a Di Maio. Dunque un approfondimento. E poi il premier del Papocchio scrive Mario Giordano, un principe delle poltrone. I soldi per le cure dei bimbi finivano pure agli operatori sociali di Bibiano. Il giro d'affari di Foti per una ventina di pazienti era di 150 mila euro. In parte girati all'associazione di cui sono membri gli assistenti. L'inchiesta si sdoppia. Altri indagati su questa vicenda. Il messaggero. Anche qui Movimento 5 Stelle PD. Scontro sul Conte Bis. Poi Statali. L'anticipo delle liquidazioni slitta a fine anno. La crisi di governo congela il TFS che 230 mila dipendenti pubblici attendevano da settembre. Così il messaggero. Vediamo adesso il mattino. Anche qui Movimento 5 Stelle PD. Duello sul Conte Bis. In retroscena le sirene della Lega. 150 grillini pronti al nord. Poi le strategie. La teoria dei due forni compie 50 anni. Ma Luigi non è Andreotti di Maio. Non è Andreotti. Scrive il mattino di Napoli. Dal mattino passiamo a vedere il sole. 24 ore. Dazzi, cinesi e Fed. Trump attacca tutti. E i mercati vanno giù. Commercio globale. Pechino risponde agli Stati Uniti. Dazzi su 75 miliardi di dollari per prodotti americani. Trump, la Cina non ci serve. Le aziende vadano altrove. Nuovo attacco a Powell. Borse nervose. Milano meno 1,65%. Wall Street cede il 2,36%. Spread BTP. Bund a 200. Poi il vertice. Il presidente degli Stati Uniti scettico sul G7. Solo una perdita di tempo, dice. Poi liquidità. Parte la prima asta. BCL e banche italiane. Per ora disertano. Passiamo adesso a vedere il secolo d'Italia. Stop all'inseguimento. Salvini non insegua più i 5 Stelle. Ora una strategia per l'alternativa al governo che verrà. Se verrà, scrive Francesco Storace. No al patto della poltrona. La nuova campagna di Fratelli d'Italia. Insulti a 5 Stelle al PD e Grillo riattacca Renzi. Solita guerra civile nel PD. Renzi feroce su Gentiloni. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. E qui la festa. Cioè inizia il campionato di Serie A. Parte il più bel campionato degli ultimi anni. Così scrive la Gazzetta dello Sport. Protagonisti squadre, schemi, pronostici. La nuova Serie A in 8 punti chiave. Arbitri, varre e novità. Mani, rigori, barriere, regole più chiare. Meno discrezionalità. Poi ci sono le foto di alcuni protagonisti. La Juve, Sarri dal divano. E ballottaggio di Bala. Iguaini in attacco che insidie a Parma per la prima di campionato. Sul fronte Napoli, Ancelotti sfida tutti. Siamo da Scudetto, dice Chiesa e Ribery. I primi ostacoli. La Fiorentina, dunque, che si è rinforzata con il campione francese. Ribery svincolato dopo la lunga esperienza con il Bayern di Monaco. L'anticipo di Serie B. Rigore parato al 94esimo. Inzaghi si salva. Pisa Benevento finisce a reti bianche. 0-0 oggi. Sei partite. Poi Vandanara alle Wogs Inter. Un altro anno insieme. Così scrive sui social Icardi salta il Lecce. La moglie allontana l'addio. Dunque la telenovela Icardi continua. Non si sa se rimarrà all'Inter oppure finirà in un'altra squadra. Si è parlato molto di Juventus e Napoli. E con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. al prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il Telegiornale. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.